Ospite graditissima qui a Elisir, benvenuta e bentrovata alla professoressa Maria Luisa Brandi, endocrinologa dell'Università San Raffaele di Milano, ma ricordo che lei è anche presidente dell'osservatorio sulle fratture da fragilità. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Invece che aspettare tanto tempo, professoressa, diciamoli subito i segreti. I segreti per mantenere le ossa sane. Beh, la prevenzione primaria. La prevenzione primaria dura tutta la vita, non ci abbandona mai. Poi si deve adattare a seconda dell'età della nostra vita, appunto. Però noi dobbiamo fare un'attività fisica regolare, quindi muoverci tutti i giorni e poi parleremo di quanto e quando e come, e anche esporci alla luce solare per far sintetizzare la vitamina D, che è l'ormone che ci farà assorbire calcio a livello intestinale e introdurre le quantità raccomandate di calcio. Qui vedo un tavolo fornitissimo di tanti alimenti diversi che ci possono poi aiutare anche a dare le istruzioni a casa. Ecco, diamo le istruzioni perché abbiamo capito quanto sia importante il calcio per le nostre ossa. Come possiamo assumerlo? Ma noi lo dobbiamo assumere in maniera facile, prima di tutto. Quando diamo queste raccomandazioni, dobbiamo immaginare che a casa le persone non possono stare tutti i giorni a dire ho assunto abbastanza calcio, quindi dobbiamo introdurre dei comportamenti che diventano automatici nella nostra vita, così che non dobbiamo pensarci più. Allora, nella nostra dieta possiamo introdurre senza troppi problemi degli alimenti che sono il latte e i latticini e le acque minerali ricche di calcio. Questo perché è la maniera più facile di dire come fare per chi può introdurre il latte e i latticini, quindi 30 grammi giornalieri di un formaggio molto stagionato che quindi non avrà più nemmeno il lattosio proprio perché lo ha perso nella stagionatura. E un yogurt o una tazza di latte, poi anche questi per chi ha intolleranza al lattosio dovranno essere completamente corretti come li troviamo oggi naturalmente nei nostri supermercati. C'è la possibilità di trovare alternative. Sì, e un litro e mezzo di acqua ricca di calcio, cosa che ci permette di arrivare a quegli 800 milligrammi al giorno ce ne mancano altri 200, ma quelli li troveremo in tutto quello che mangiamo durante la giornata. E allora le aggiungo una domanda che le rivolge anche Cinzia su Facebook che le chiede una lista di altri alimenti, così abbiamo la varietà di alimenti che ci possono permettere di assimilare il calcio. Certo, noi abbiamo calcio anche nella frutta secca, quella oleosa, quindi noccioline, nocciole, mandorle, sono ricchi di calcio. Naturalmente anche quelli le dobbiamo introdurre in quantità limitata. Se dovessimo introdurre giornalmente 100 milligrammi di calcio con la frutta secca ne dovremmo mangiare un bel po'. Quindi noi quello può essere un integratore della nostra dieta. Broccoli, per esempio la cicoria, ci ne hanno anche queste. Possiamo mangiare una porzione, non è che possiamo mangiare un chilo di broccoli, un chilo di... E poi noi possiamo immaginare che c'è un cibo che ne contiene molto, che è il sesamo. Il sesamo ne contiene quanto i formaggi stagionati. Il sesamo? Sì, il sesamo. Se noi condissimo già con il sesamo, naturalmente è difficile usare 30 grammi di sesamo giornalmente, mentre possiamo usare 30 grammi di un formaggio stagionato, è più difficile il sesamo. Però se condiamo con il sesamo, che è altamente calorico, come i formaggi molto stagionati, intendiamoci bene, non è che... Quindi ci sono i pro e i contro. E certamente. Quindi tutte queste cose però ci permettono di arricchire anche il nostro condimento con un ingrediente che magari non sappiamo che contiene calcio, ma ne contiene tantissimo per peso. E grazie alla professoressa Brandi abbiamo capito con l'alimentazione come possiamo integrare il calcio, ma a questo punto io le devo anche chiedere, qualora l'alimentazione non bastasse, per integrare il calcio e dovessimo aver necessità di altro calcio. Qual è la modalità preferita? Noi dobbiamo introdurre il calcio come supplemento a quel punto, quindi diventerà un supplemento che noi misureremo in funzione delle abitudini della persona che abbiamo davanti. Se c'è qualcuno che ti dice, non voglio bere acque calciche perché mi danno noia, ho soltanto quest'acqua che è senza minerali e preferisco questa. Non posso introdurre latte e latticini, dovrei fare un calcolo di dare quei 800 mg al giorno in alta maniera e lì abbiamo tanti supplementi che possiamo scegliere. Io di solito privilegio quelli che contengono meno calcio da somministrare più volte durante la giornata, anche perché noi il calcio lo assorbiamo quantitativamente in funzione di quanto ne introduciamo. Cioè se io introduco per esempio 1000 mg di calcio, tenderò ad assorbire meno calcio a livello intestinale di una situazione in cui invece quei 1000 mg sono frazionati. Perché noi del calcio che introduciamo non riusciamo ad assorbirne più del 40%. Però se arriva tutto insieme al nostro intestino, il nostro intestino è intelligente, si difende dal calcio. Quindi tende ad assorbirne una percentuale inferiore. Quindi frazionare durante la giornata, per questo la dieta, noi la privilegiamo. Perché nel corso della giornata ci aiuta ad assimilare il calcio. Benedetta? Speriamo di aver accontentato Cizia che su Facebook scriveva la sua volontà di avere una lista più o meno definitiva di cibi e direi anche di integratori al di là del consueto sport, ci scrive. E allora io le faccio, professoressa Brandi, proprio una domanda sul legame non sempre immediato fra salute delle ossa, perché uno pensa sempre ai muscoli e lo sport. Qual è il nesso? Beh, intanto l'apparato non è l'apparato scheletrico, è l'apparato muscolo-scheletrico. Quindi dobbiamo immaginare che lo scheletro è lì, ma insieme c'è il muscolo. E senza il muscolo lo scheletro non costruisce. Il muscolo riesce a stimolare attraverso l'attività di movimento la parte più profonda del nostro scheletro, cioè le cellule che noi chiamiamo osteociti, che sono quelle cellule piccole, piccole, sembrano neuroni e sono dentro all'osso mineralizzato. Quelle cellule sono dei regolatori di tutto il sistema. Se io stimolo attraverso il muscolo l'attività dell'osso, io produco più osso. Quindi tendo a costruire più che a distruggere. Poi c'è una proteina molto importante che si chiama irisina, che è prodotta dal muscolo, che ha effetti anche sulle cellule osteocostruttrici, quelle che abbiamo detto ora. E poi c'è una proteina molto importante che viene prodotta però soltanto quando il muscolo è molto statico, infatti si chiama miostatina, che influenza il riassorbimento dell'osso. Quindi fra le due parti di questo apparato muscolo-scheletrico, i due tessuti, c'è quello che noi chiamiamo cross-talk, c'è una conversazione continua con passaggi anche di molecole che influenzano una o l'altra funzione, quella di formazione o di riassorbimento. E mentre c'è una mosca che vuole assimilare un po' di calcio perché circola sul nostro tavolo, noi facciamo un movimento insieme a lei, professoressa Brandi, perché abbiamo capito quanto è importante anche lo sport per evitare le conseguenze legate all'osteoporosi, ma quanto sport e quale sport dobbiamo fare? Noi diciamo sempre che l'attività fisica deve essere di tipo gravitazionale, cioè deve gravare sul terreno, per questo diciamo la marcia, la corsa, per chi lo può fare il salto con la corda, quelle sono attività ottime. Poi meno il nuoto che invece non ci farebbe fare questa attività gravitazionale. Sì, non è ideale, però non escluderlo mai, perché io quando qualcuno mi chiede cosa posso fare, dico qualcosa che vi piaccia. Quello è importante, è vero. Perché se te togli il nuoto a una persona che fa il nuoto abitualmente, in realtà hai tolto quell'attività gravitazionale, però è vero anche che i muscoli hanno sempre una sollecitazione, magari più quelli della parte superiore del corpo che quelli della parte inferiore del corpo nel nuoto. E il ballo? Lei tra l'altro professoressa balla. Ma come noi il ballo lo annunciamo qui con Michele Mirabella, ad epoche in cui il ballo ancora non era diventato un argomento, diciamo, di costume e anche televisivo. E mi ricordo che in una delle trasmissioni del passato Michele Mirabella mi chiese e che attività fisica lei suggerirebbe? Io dissi a me il ballo perché è gravitazionale, aumenta il nostro equilibrio ed è un'attività che ci fa socializzare. Lui per lì si scandalizzò in po' e mi disse, ma come? Questi sono pazienti fragili? Il buchi-buchi no! Però non stavamo passando del buchi-buchi. Ma me la ricordo per una cosa che fu così innovativa allora e ne parliamo per la prima volta questa trasmissione. E quindi adesso si potrebbe sfruttarla, visto che il ballo è diventato anche di moda. Michele, hai cambiato idea nel frattempo? Sono felice di avere una biografa che segna nel suo diario quotidiano le sciocchezze che dico io. Professoressa Brandi, si legge che per trarne... Naturalmente era una captazio benevolenza, dovevate dire no, ma che... No, noi ci abbiamo riso. Eh, lo so, sono fatto così. Si legge che per trarre maggiori benefici lo sport per le signore, per le donne, va iniziato, vada, si legge, prima che arrivi la menopausa. Ma una volta che non ha deciso, è arrivata la menopausa, che fa? Decide di non fare sport? No, può farlo lo stesso, con vantaggi magari ridotti, ma pur sempre vantaggi. Oh, poi i maschi non hanno questa regola, beati loro, o no? Diciamo che noi l'attività fisica, se la iniziamo prima, prima possibile, che vuol dire fin da quando siamo piccini, è la cosa migliore, perché ci abituiamo a farla. Quindi l'attività fisica è qualche cosa che dovrebbe essere connaturato con l'educazione, poi, sin dalla scuola elementare. Però, se noi iniziamo un'attività fisica molto tardi, la adegueremo alla persona. Per esempio, attività importanti per l'equilibrio e anche per il rafforzamento dei muscoli paraventebrali, come Pilates, la ginnastica posturale, non la raccomandiamo a tutte le età. Io non ho un'età in cui la raccomando. È evidente che una persona che non ha mai fatto attività fisica inizia un po' tardi, dovrà aspettare un po' per arrivare a ottimizzare i risultati, ma avrà comunque dei risultati. Quindi l'attività fisica va bene a tutte le età. A tutte le età. Cominciare prima è sempre meglio. E per quanto riguarda la vitamina D, gli attenti telespettatori dell'Isir sanno benissimo quanto sia importante per la salute delle ossa, ma come facciamo? La dobbiamo integrare, superato a una certa età? Come dobbiamo gestirla? Perché molto spesso si assimila vitamina D pensando che faccia bene. Poi, tra l'altro, stomaco pieno, stomaco vuoto. Queste domande ritornano sempre, ma poi ce le dimentichiamo le risposte. Diciamo che, cominciamo dal fondo, che è come quando, stomaco pieno vuoto. Per il coli calciferolo, che è la vitamina D sintetizzata a livello cutaneo, che ancora non è stata metabolizzata, essendo oleosa è meglio assumerla con un pezzettino di pane, comunque un po' di cibo, perché viene assorbita meglio. Per i metaboliti, invece, che sono il calcifediolo, il metabolita epatica, il calciteolo e il metabolita renale, essendo molto idrosolubili non li possiamo assumere in qualsiasi modo. Quindi non è che ci sono raccomandazioni per quelli, perché è una questione più di assorbimento. Relativamente a quando prenderla, sicuramente la popolazione di età avanzata la deve assumere, perché la nostra pelle invecchia e non sintetizza più abbastanza vitamina D, questo ce lo dicono gli studi epidemiologici. Nelle quantità raccomandate, noi diciamo 800-1000 unità al giorno, non di più di vitamina D al giorno, e poi può essere assunta sommando un po' queste unità, settimanalmente, ogni 15 giorni mensilmente, non andrei oltre il mese per l'assunzione. Poi per le altre popolazioni dipende. Se è una persona che lavora al computer al buio completo e ci sta tutto il giorno e è giovane, ha bisogno di vitamina D. Noi abbiamo bisogno dei suoi consigli, professoressa Brandi.